Salve a tutti cari amici e benvenuti con me in questo nuovo video Oggi siamo su un nuovo gioco FNAF Fanmade Signore e signori sto parlando di The Joy of Creation Sempre questa mia pronuncia inglese molto molto sexy Allora, devo dire un paio di cose su questo gioco Primo è una demo e quindi c'è solo la modalità sopravvivenza Secondo è stato fatto questo gioco da Nixon Un famoso animatore di FNAF E quindi, niente, sarà un bel gioco Lo spero vivamente perché sennò siamo tutti morti Allora, siamo in questo bel posticino, sì, fa abbastanza schifo Poi, vediamo un po' Allora, questa sembra una stanza carina Sì, però puoi vedere se era la mia tomba Ok, tipo che possiamo vedere queste specie di telecamere Dico specie perché non sono sicuro siano vere e proprie telecamere Guarda là Cioè, è bellissima questa cosa della visuale In pratica vedo attorno a me chi c'è Cosa succede? È fighissimo Guarda là Oh, Foxy, 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 Foxy Sto vedendo che sta venendo Ho detto sto vedendo che sta venendo Via Ok Ah, nessuno Oh, lui mi piace Non mi piace Bonny, Bonny, perché devi venire tu, Bonny? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Buon Natale Allora Non mi piace, non mi piace questo gioco Già non mi piace più Prima dicevo che era bello Adesso dico che è brutto Perché non mi piace È semplice Sto usando la torcia come un porco Cioè, tipo la sto sparando La sto sparando su questi Eeeh, quanta bella gente che mi viene addosso, eh Ho fatto tipo un No Baby a Triple Oh, yeah Ok, qui Qui nessuno Qui qualcuno Ok Di qua Qui No No, non ho controllato Non ho controllato Ah Per fortuna non c'è nessuno Come l'ho detto Ok C'è qualcuno Ed è anche qualcuno di molto molto pericoloso Mh, mh Qui 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 Ok Cioè, non c'è manco il mio amico giapponese Nishun Cioè, proprio Niente Non c'è nessuno Devi essere sempre tu, Foxy A rompere Ok Direi di dare Un'occhiata tra poco A le telecamere Non so a cosa serva la meccanica delle telecamere Però E' figo La seconda chiamata Bello Non tu, Foxy Non tu Ho detto bello così Oh, no, no, no Stanno venendo tutti quanti Chi mi ha attaccato? Chi? Chi è che mi ha attaccato? Chi è che ha usato? Direi di fare giusto un altro tentativo Perché mi piace come gioco Sinceramente Alla In fondo Ma molto Molto in fondo Cioè, tipo si deve scavare Nell'entroterra Fino ad arrivare Alla lava Beh, sì Mi piace Questo che fatti subito Con destine di robberale Va bene Bello Allora Hai capito? Hai capito? Cioè, più scherzo Cioè, questa cosa qua Allora Io adesso vi faccio una domanda Ragazzi, questo mi chiede C'è un povero cristiano, no? Perché? Ha dei guardottoncini In casa Uno in un corridoio Uno dietro la finestra Uno in una armada L'altro In una sala Non so Non capisco molto bene cosa c'è Di fronte Perché? Perché? Adesso qualcuno mi deve spiegare Il perché di questa cosa No Non va bene Non va bene Non va bene Un minuto Sono suavviso un minuto Fantastico Sono il campione mondiale Del mondo Ok Allora Allora Inferno Ma è per voglia Tutta una tua banda Di mascazzoni Terofili Siete solo una banda Di terofili Andate via Ok Non c'è nessuno Allora 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 Niente Non c'è nessuno È fantastico Ancora Bambi Cito Sera di no Bambi Bello Bambi Sei proprio bello Quanto Una scatola di rottami Buttata in mezzo di rottami Dove si butta Una scatola di rottami Scusate Ok Allora Allora Vox Sei brutto come non so cosa Manca la scatola di rottami Manca quella Manca quella Ok Voxi può salire Sto usando la torcia Come un porco Senza manco capire Chi sto vedendo No Un'altra chiamata Ancora Ma che Ma che Ho queste chiamate Nessuno ci vuole sentire Hai capito Nessuno Nessuno Neppure nessuno Ti vuole vedere Forse Ah Vedo Le tapparelle Che si alzano Ogni volta Che guardo In quella direzione Mi inquieta abbastanza Quindi cosa Non so se sono tapparelle Che si alzano Un semplice riflesso Ma Non capisco In che modo Un riflesso Possa Comportarsi così Allora Raga Sto resistendo Un botto Nessuno lo ferma Guarda là Nessuno lo ferma Nessuno ferma Ado paga troppo Ado paga troppo Immune Ai jumpscare Guarda là 8 minuti Guarda là Nessuno lo batte Nessuno lo sfonda Di mazzate No Proprio Nessuno Manco il suo amico Giapponese Nishun Passi Sicuro Chica Non era Perché quella Sbuga da un armadio Quindi non è Che si muove Dentro l'armadio Va tipo Ok Prossi via Ok Non era Freddi Quello Per fortuna Magica Bonni Poi Chi viene più Orsu Venite Rompete Le scatole Nessuno Vi vieta Se non io Ok Ok Freddi Beccato Questo Però il resto Non vedo Nessuno Che mi può Attaccare Ok Ok Si sono fatte Le nove O meglio Sono Nove minuti Sto sopravvivendo Sto sopravvivendo Me la sono chiamata Vole detto Bonni Io uno di questi giorni Mi vendico Uno di questi giorni Mi vendico Bonni Niente Daccordo ragazzi Direi che posso concludere Quel video Se vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Se volete Terro riformazione Riguardo al canale Farmi qualsiasi tipo di domanda Mettete sempre l'hashtag A dopo che poco Ci vediamo alla prossima ragazzi No The nightmare has just begun No Grazie a tutti.